La scuola di Prato è una scuola eccellente, soprattutto sui temi della scuola multiculturale. Credo che, visto che vogliamo lavorare per fare formazione per gli insegnanti, scambiando buone pratiche, la scuola pratese può essere senz'altro un modello da esportare. Innanzitutto mi ha colpita la partecipazione di studenti, di insegnanti, di famiglie, di dirigenti scolastici, insieme agli amministratori locali. Se vogliamo cambiare quest'Italia dobbiamo partire dalla scuola e dobbiamo partire dai nostri territori, innanzitutto aprendo le nostre scuole per collaborare in maniera davvero efficace con le istituzioni culturali del territorio, con le imprese del territorio, con le forze vive anche della società civile che ci sono in questa terra. Sì, è stato un pomeriggio di grandissima partecipazione, ha visto una ventina di persone per ogni tavolo discutere di tutti i temi che sono stati proposti. Questo conferma innanzitutto che c'è grande voglia di parlare di scuola e soprattutto conferma che la scuola Prato è una scuola viva e attiva, che ha voglia di continuare a migliorare e ha bisogno di nuove risorse, ma ha messo in pratica buone pratiche di livello nazionale che quindi raccoglieremo per mandare in un documento che contribuirà alla scrittura della buona scuola.